Sparatoria nella notte in via Capecelatro a Taranto. Un uomo di 30 anni è stato colpito agli arti inferiori da quattro colpi d'arma da fuoco che hanno squarciato il silenzio della notte. L'agguato, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto poco prima delle tre. La vittima sarebbe stata ritrovata sanguinante vicino al civico 42. L'allerta sarebbe partita da un abitante del palazzo che avrebbe chiamato la polizia, impaurita dalla presenza di un uomo sul pianerottolo che tentava di sfondare la porta d'ingresso. Gli agenti della sezione volante della questura di Taranto giunti sul posto avrebbero trovato il trentenne, già noto alle forze dell'ordine, riverso per terra con una ferita alla testa da cui perdeva sangue. Subito soccorso dalla personale del 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale e non è in pericolo di vita. La polizia ha subito avviato le indagini per approfondire motivi e dinamica della gambizzazione. Nel corso degli accertamenti successivi sarebbero stati trovati in piazza Messapia quattro bossoli e due ogive calibro 9, oltre alla presenza di macchie di sangue in diversi punti sull'asfalto.